Anche questa settimana continua a crescere il numero di nuovi casi di Covid-19 nel nostro paese e l'incidenza raggiunge 504 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT mostra una tendenza all'aumento, siamo ormai a 1,30, quindi al di sopra della soglia epidemica. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 10 e al 2,4%, quindi registriamo ancora una tendenza all'aumento anche se siamo al di sotto della soglia critica di congestione delle strutture sanitarie. Dato l'aumento della velocità di circolazione virale, è bene mantenere dei comportamenti che siano ispirati alla prudenza e soprattutto effettuare le dosi di richiamo di vaccino soprattutto questo riguarda le persone a maggior rischio, quindi gli anziani e le persone fragili o vulnerabili in modo da proteggersi dalle conseguenze più gravi della malattia.